237 equipaggi, 432 atleti di 23 società provenienti da tutta Italia, oggi e domani sulle acque della diga San Giovanni di Naro, danno vita alle regate di canottaggio valide per il primo meeting nazionale ragazzi allievi cadetti e master. Dopo gli europei del 1991, la città barocca torna ad ospitare un evento sportivo di rilievo. La competizione assegna anche il trofeo Gino Cutaia. L'evento è organizzato dal Comitato regionale Sicilia di canottaggio e gode del patrocinio del comune di Naro, Coni Agrigento, provincia regionale di Agrigento e dell'assessorato regionale al turismo. L'impegno dell'amministrazione e della federazione di canottaggio con la quale collaboriamo per sviluppare lo sport remiero sulla diga San Giovanni daranno uno sviluppo anche di carattere occupazionale. Qui ci sarà sicuramente e ci auguriamo che nasca un'associazione, una cooperativa di ragazzi che venga a sfruttare da un punto di vista sportivo, turistico e ricettivo anche questa struttura. Quindi possa farne un fiore all'occhiello non solo per lo sport remiero, non solo per la federazione di canottaggio ma anche per la provincia intera. Perché qui deve nascere, deve fiorire lo sport remiero anche della provincia. Le regate iniziate alle ore 9 di oggi riprenderanno allo stesso orario domani domenica 1 aprile per concludersi alle ore 13. La candidatura di Naro è stata fatta volutamente dal Comitato Sicilia per riqualificare un lago che 15-18 anni fa è stato oggetto di gare internazionali. Negli anni passati è stato poi successivamente abbandonato e vandalizzato a causa del prosciugamento del lago. Negli ultimi anni il sindaco e io nella qualità di Presidente di Comitato abbiamo creduto in questo lago. L'anno scorso abbiamo presentato questa candidatura che la federazione ha accettato grazie alle motivazioni adotte. Le gare di canottaggio si svolgono a serie, ovvero nella stessa gara partecipano atleti della stessa età e della stessa categoria. Su barche che vanno dai singoli ai doppi all'Ottocon che è la barca più rappresentativa perché è l'ammiraglia del canottaggio. Vengono presi i tempi di ogni gara e chiaramente vengono premiati per ogni arrivo, quindi il primo, il secondo e il terzo di ogni gara. Non ci sono poi serie che possono determinare i risultati delle altre gare.